Qui al termine di San José contro St. Francis, semifinale di Europa League San José vince un'altra partita, arriva un'altra finale Certo, siamo arrivati alle due finali eppure eravamo un po' stanchi per l'altra partita però alla fine abbiamo giocato bene, forte, serio e quindi è uscito bene E meno male che eravate stanchi, vincete anche questa qui Facciamo un buon allenamento tra tutta la settimana, la mercoledì a sabato sempre In totale tre partite per venire sul campo, avete giocato la prima e la seconda Certo, è vero, è vero, assolutamente Facciamo un allenamento prima di venire Giocate la prima e giocate anche la seconda Grazie, buon calupo per le prosta